Tragedia sul lavoro in località Casetta della Guardia, nei pressi di Ponte alla Piera, nel comune di Anghiari. Gabriele Casi, taglia legna di 20 anni, di caprese Michelangelo, è morto schiacciato da un albero che stava tagliando. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di venerdì mattina. Il giovane era dipendente della ditta boschiva del padre Sauro. I due stavano tagliando una pianta quando il tronco è precipitato, colpendo il ragazzo. È stato il padre ad allertare i soccorsi scattati immediatamente con i sanitari del 118 e l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo con l'ausilio dell'elicottero Drago. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso Pegaso. A nulla purtroppo sono valsi però i soccorsi degli operatori del 118. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La zona in cui si è consumata la tragedia è molto impervia e quindi difficilmente raggiungibile. Sul posto anche gli operatori dell'ispettorato del lavoro, i carabinieri della stazione di Anghiari e i carabinieri forestali. Le forze dell'ordine intendono accertare se ci siano responsabilità del titolare della ditta, ovvero il padre di Gabriele, nell'accaduto. La salma è stata recuperata dal gruppo SAF dei vigili del fuoco che si è calata sul punto esatto dove si trovavano padre e figlio. È stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.